Il Made in Calabria sbarcherà a Verona per l'annuale fiera agricola che richiama in Veneto centinaia di esperti del settore. L'appuntamento rappresenta un'importante vetrina per gli agricoltori calabresi che avranno così la possibilità non solo di esporre i propri prodotti, ma anche di confrontarsi con altri produttori e conoscere le nuove tecnologie normative che riguardano il settore. Un comparto strategico anche per il presidente della regione Mario Oliverio che tramite i fondi PSR 2014-2020 ha previsto un plafond di circa un miliardo di euro. Dobbiamo riconoscere che il governatore Oliverio sta dando risposte importanti al nostro settore. L'obiettivo da raggiungere è ancora avanti, quindi bisogna avere il coraggio di continuare a fare scelte importanti per questo settore. Importanti in tale direzione sono le iniziative di promozione come la fiera agricola, manifestazione internazionale che promuove la tecnologia e l'innovazione in agricoltura e che si terrà a Verona dal 3 al 6 febbraio prossimi. L'evento è stato presentato alla cittadella davanti a una platea di studenti di alcune scuole agrarie. Per noi la Calabria ora rappresenta la chiusura di questo roadshow in un'area che è appunto il sud Italia che a livello agricolo e agroalimentare rappresenta un'eccellenza. Grazie a tutti.